ecco giuseppe benvenuto giuseppe questo è il nostro salotto lo chiamo il salotto del debriefing perché subito dopo l'intervento fatto qui in sala streaming andiamo un po' ad approfondire quelle che sono state le tematiche affrontate durante l'intervento però le tematiche sono anche più che trattate solo qui sono quelle ormai di carattere generale abbiamo parlato di banche centrali abbiamo parlato di quello che è il trend e di quella che è la problematica del capire in che direzione insomma porsi una delle frasi che ha detto il nostro salvo è che la direzionalità deve essere rispettata quanto è importante seguire questo comandamento allora intanto buongiorno a tutti allora a livello dal lato broker in quanto io poi rappresento tic mil sicuramente è un dato importante perché da quello che abbiamo notato perché dopo es ma i broker sono comunque tenuti a dare delle percentuali la perdita diciamo dei retail quindi quello che si nota sicuramente che nelle fasi di tendenza di trend come appunto salvatore ha detto i tre reti fanno molta fatica quindi purtroppo la leva è un fattore sicuramente molto importante perché anche dopo es ma visto che la leva è stata passata a 30 però molti trader continuano sempre a utilizzare questa leva in maniera impropria e quindi si creano delle situazioni in cui nelle fasi trend si soffre lo diceva anche salvatore nel suo intervento utilizzando delle strategie di trading che sono molto pericolose come ad esempio una martingala e quindi come broker posso sicuramente diciamo non mi sento di consigliare nulla però sicuramente un approccio molto più tranquillo nelle fasi di tre né soprattutto adesso che c'è un incertezza geopolitica allucinante quindi di utilizzare di fare training in modo consapevole è sicuramente abbassare il rischio quindi aumentando sicuramente i margini utilizzando una leva molto inferiore rispetto a quella che di solito si utilizza diciamo nelle fasi di mercato un po più tranquille esatto commento importantissimo questo giuseppe allora parliamo di un broker tick mill che insomma vanta la volontà di andare sempre più verso un approccio tecnologico ma in che senso questo approccio tecnologico perché sai a volte la tecnologia invece che suscitare come dire come dire un sentimento di affidabilità spesso e volentieri ci invece ci suggerisce un po oddio non mi fido la tecnologia insomma abbiamo sempre questo amore e odio nei confronti della tecnologia si utilizza anche dei termini magari impropri come l'intelligenza artificiale si è sui mercati finanziari ma in questo senso noi cerchiamo sempre di essere comunque al passo con con i tempi e con le richieste soprattutto dei clienti possiamo dire sicuramente dal lato tick mill questa è la prima volta adesso dopo il covide che facciamo un evento fisico qui a roma da quello che ci dicono i nostri clienti che abbiamo avuto appunto la fortuna di incontrare dal vivo così dopo tanto tempo è sicuramente nuovi prodotti sempre nuove piattaforme che possono comunque darti quel valore aggiunto che magari venti anni fa non avevi perché ovviamente il training è cambiato diventato molto più veloce dinamico e quindi richiede anche dei software che ti diano la possibilità di avere quel quel legge appunto per poter poi magari cercare di fare dei gain sulla sul mercato quindi in questo senso tic mille sempre aperta nuove partnership a nuovi potenziali piattaforme infatti a breve lanceremo la sitrader che è un ottima piattaforma per sicuramente il lato cfd ma siamo molto attivi sullati futures con piattaforme molto evolute che vanno a soprattutto quelle sui volumi a intercettare delle dinamiche molto molto interessanti durante le fasi di appunto come stiamo vedendo adesso e quindi tic mille offre questa possibilità attraverso i mercati regolamentati quindi attraverso connessioni con piattaforme molto sofisticate poi può essere una bookmap cqg volumetrica trading e altre piattaforme molto interessanti in italia e quindi è importantissimo valutare quelle che sono le dinamiche diciamo dal punto di vista del anche di quello che è l'operato di chi insomma accede alla piattaforma hai detto oggi un rientro no alla fisicità il ritorno effettivo dal vivo e quali sono state le impressioni allo stand no perché siete siete qua nello stand siamo siamo qui si è stato sicuramente un ottima una bellissima sensazione riuscire comunque perché il nostro praticamente un business online quindi non abbiamo quel rapporto diciamo visivo con i clienti quindi queste manifestazioni sono sicuramente un punto di ritrovo per poi incontrare sicuramente i nostri clienti ma anche potenziali partner quindi è sicuramente qualcosa di bello che finalmente abbiamo sì dopo tanto tempo spero che appunto ce ne saranno altri in in Italia sicuramente parteciperemo molto bene molto bene e per quanto riguarda un'ultima invece domanda te la vorrei fare dedicata al tema ricorrente di questo mese che è il tema dell'educazione finanziaria quanto è importante andare a approfondire la tematica dell'educazione finanziaria e perché a questo punto in questo momento contingente è così importante formarsi sicuramente è importantissimo avere un'educazione finanziaria di qualità perché ovviamente ecco poi c'è un altro discrimine no perché si fa presto no andare a prendere due informazioni direi che l'investing per quello che ho pubblico vedere attraverso le varie sale sicuramente viene offerta educazione di qualità al passo appunto come abbiamo detto con i tempi si parla di cripto si parla comunque di altri asset che stanno che sono in voga quindi ci sono degli speakers che io personalmente reputo molto molto professionale quindi sicuramente è importantissimo l'educazione finanziaria molto bene molto bene perciò abbiamo insomma dato modo anche a Ticmill di raccontarsi raccontarsi insieme a noi rispetto a quelle che sono che è stato poi il loro intervento qui a investing roma 2022 io ringrazio ancora tantissimo giuseppe cericola che ci ha aiutato insomma a entrare nel mondo qui di Ticmill invece noi